Le nostre trasmissioni in agosto continuano, benvenuti a tutti voi dunque da amici da adottare Onlus Appio Sasco, buona estate, buon agosto Pinuccia e caro Tinto, ciao. Grazie, grazie Francesco, grazie che siete ritornati qui con noi e spero che queste creature che presentiamo oggi riescano a trovare una famiglia anche se molti sono in vacanza. Sì, assolutamente, non dico di non trascorrere le vacanze ma trascorrere qualche ora in agosto o durante l'anno in Canile non può che far bene, a voi di sicuro, a noi anche e a loro. E anche a loro, sì. A loro, questo splendido dalmata salvato al pelo dalla sua pressione in Spagna, lo vedete, è magro, vogliamo sapere tutto di lui Pinuccia. Beh, questi cani che arrivano dalle Perrera abbiamo poche notizie in più, penso che sia sufficiente guardarlo in che stato è arrivato, lui era già tra quelli pronti per essere inceneriti purtroppo, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a salvarlo, è arrivato sabato sera e posso dire veramente che è un cane di una bontà senza limiti. Non ho mai visto un dalmata così equilibrato, così buono, prima ho fatto le prove col cibo, glielo ho tolto dalla bocca, cioè proprio una cosa eccezionale questo cane. Vivo per miracolo, a questo punto deve risorgere, ingrassare, trovare un'adozione, trovare una famiglia, trovare una sistemazione. Spero proprio, veramente tanto che lui, come tutti che riescano a trovare una famiglia, ma per lui in modo particolare, se lo merita perché è un cane veramente molto molto buono. Bene, diamo un'occhiata alla scorsa trasmissione per capire quali i nostri amici hanno trovato famiglia. Tre su otto, diciamo che siamo sotto la media, comunque Shanti e Leon hanno trovato casa, erano stati presentati in coppia. Sì. Poi Ania o Ania, come dici tu, la pastora, ti piace Ania, la pastora, ci abbiamo lavorato. Che è quella pastorina lì, ha avuto tanta tanta fortuna perché ha trovato adozione praticamente in modo veloce e ha trovato una famiglia eccezionale. Bene, Penelope, mi diceva Camiglia, un'adozione eccezionale. Guarda, anche quella creatura lì ha sofferto tanto, ma ora è ripagata con tanto tanto amore. Una spina nel fianco, Alex, io l'ho presentato, un pastore tedesco strepitoso, molti like, molti mi piace e a noi sarebbe bastato una telefonata per una adozione. È mancata, ci lavoreremo, lo ripresenteremo perché noi non ci arrendiamo, giusto? Certo, no, noi non ci arrendiamo, anzi, abbiamo anche preso una compagna uguale a lui, l'abbiamo salvata dallo stesso canile di Palermo, per cui ne abbiamo due. Bene, partiamo con la rassegna. Nerina rappresenta un'equipe, un alto numero di cuccioli, cinque, sono arrivate da Palermo. Palermo, lei praticamente l'abbiamo messa come rappresentante di tutta la famigliola e sono in cinque, cinque creature di quattro mesi, una più bella dell'altra. Ovviamente sono gioiose e hanno tanta voglia di giocare. Quando il rapporto tra la volontaria e il cane diventa indivisibile, che cosa dobbiamo fare noi? Sapere la storia del cane e adottare Gioi. Ciao Anna, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, Gioi sei un cane giovane, molto bello, ha circa tre anni e mezzo, è un incrocio molossoide. Premetto che tu sei la protagonista del suo salvataggio, dunque lui ti dovrà la vita. Sì, arriva come molti dal canile di Palermo, è arrivato a fine maggio con la sua compagna di box che è stata adottata da un mesetto più o meno e quindi lui adesso è rimasto, diciamo, solo, tra virgolette, cerca casa. È un cane molto buono e vivace, nel senso che giustamente è vivace per la sua età e aspetta di trovare una casa. È buonissimo, venitelo a conoscere. Diamo ora la parola a Cameglia che ci sponsorizza, direi, il termine più corretto, cioè l'adozione di Max. Tuo particolare amico, vedo, eh? Sì, molto. Allora, lui è stato salvato da Siracusa, ha tre anni, era un cane che era picchiato dal padrone, tenuto sempre in catena, pane e acqua. Ha un dito tagliato dal padrone con la zappa, pieno di cicatrici, gli hanno tolto la catena con i forbici. Adesso che si trova da due mesi da noi è un cane molto equilibrato e anche ingrassato. Poi il pelo gli è cresciuto perché aveva tutte le ferite al collo e si vede anche nella testa, nei piedi. È un cane ubidente, cammina alla gamba. Io lo lascio anche libero nei campi, molto, molto fedele al padrone, che lo vede come padrona. Certo, diciamo una brutta storia che comunque ha avuto un lieto fine, è stato sottratto al suo, tra virgolette, padrone, più che proprietario. E adesso tu vedi per lui un'adozione, com'è l'adottante di Max, secondo te? È una persona che ha esperienza con i molossi, buona d'animo, perché lui è un cane molto buono, è anche molto pulito, non sporca mai nel box, può vivere in appartamento tranquillo, come può vivere anche in un'abitazione con giardino. Bravissimo ecocolone con le persone come il 99% dei molossi. Non sono vedi cattivi loro, loro sono proprio disposti ad amare il prossimo amico che lui incontrerà. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi vi aspettiamo per Max. E per tutti gli altri. Giustamente, tutti hanno le triste storie. Penelope, mi ricordo come l'hai presentato, Penelope ha trovato... Sì, sono molto felice e non solo noi, anche i padroni che ci ringraziano tutti i santi giorni. Ripresa cumulativa di un bellissimo trio. Allora, questa volta facciamo la ripresa del box dove abbiamo queste tre creature. Sono tre maschietti che vanno perfettamente d'accordo e c'è Virgo, è quello più grande, bianco e marron, Milo è quello nero focato e Cameo è quello bianco e arancio. Più che un box, una suite è quella che li ospita, perché c'è lavorato, diciamo la verità, riscaldati, ampi. Grazie Francesco, grazie che hai sottolineato questi nostri box. Noi abbiamo cercato di farli sentire un po' meno ergastolani, anche se la realtà è questa. Noi vogliamo che il box sia comunque un passaggio, anche i box, anzi, quelli più stretti devono proprio solo essere un passaggio dalla catena, dalla strada, alla casa, all'adozione. Sì, quello è quello che noi veramente speriamo, che questi soggiorni obbligati siano molto brevi. Ci troviamo ora negli spazi esterni che nulla hanno da invidiare a quelli che potrebbe dar loro una famiglia, perché questa è una grande famiglia e quindi abbiamo grandi giardini. Ma quello che vorrei proprio donare a loro in questa fase transitoria è proprio farli sentire un po' non ergastolani, ma dei cani di famiglia, dei cani che vivono, come vedete, abbastanza numerosi insieme e dove noi cerchiamo di dare tutto quello che è possibile come amore. Coccole per Tango? Sì, no, lui è un patatone grande. Lui è una creatura che il suo padrone ha lasciato qui perché ha dovuto trasferirsi all'estero per problemi di lavoro. Però lui è un cane buonissimo, ha socializzato benissimo con tutto il branco che c'è qui. Adesso in questo momento... È arrivata Mocca? Mocca che le va a dare due bacini. Comunque in questo recinto qui durante il giorno vive un branco di cani molto più grandi che in questo momento. Sono circa 7-8 cani che convivono e giocano insieme. La bianconera e il maia? La bianconera e il maia, arriva anche lei dalla Sicilia. È una canina di un anno, un pochino timorosa, però molto affettuosa nel momento in cui si fida. Qualche accendo di gioco ci sta? Eh beh sì, il gioco è sempre una bella cosa. Con l'immagine degli ultimi arrivi non abbiamo ancora la possibilità di presentarveli. Concludiamo questa trasmissione. Estiva, in canile, mi raccomando, affiancate il vostro canile di riferimento perché all'interno troverete delle dolcezze infinite come questi quattro amici. Un beagle, una cucciola, un cane di taglia piccola. Pinuccia puoi continuare tu? Allora, questi quattro cani qui sono arrivati sabato pomeriggio. Anche loro dalla Spagna sono quattro creature che hanno tanta voglia di giocare, buonissime. Anche loro hanno dovuto soccombere alle perrera, cosa che sappiamo tutti e ripetiamo regolarmente, che sono dei canili non estremamente piacevoli. A questo punto grazie per averci seguiti sin qua e grazie se seguirete le prossime trasmissioni che vedranno i nostri amici qua, protagonisti. Pinuccia, è agosto, il canile è attivo, dunque a un metro di distanza, suo appuntamento, ma purché veniate a trovare una soluzione, a dare loro una soluzione e magari loro daranno una soluzione anche a voi, che dici? Beh, sicuramente adottando queste creature qui riceveranno tanto, tanto amore. Grazie a tutti voi per l'attenzione, un ringraziamento alle tue collaboratrici, Webb, Cameglia, Dal Vivo e le altre che se ne sono dovute andare prima. Grazie per l'attenzione, dicevo, Pinuccia, alla prossima. Grazie, grazie ancora a voi, grazie a tutte le persone che ci seguono e a tutti quelli che sono già venuti a trovarci, grazie a queste vostre riprese e buone vacanze a tutti, ma noi siamo qui presenti con i nostri topolini. Certo, grazie a voi, noi non andremo in vacanza, buona vita, adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Grazie a tutti. L'Automobile Club Torino, che patrocinia dalla nascita video-adozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Grazie a tutti.